Al castello di Baia in Bacoli per raccontarvi quella che è stata una conferenza stampa di presentazione di una mostra bellissima, appunto la mostra dei pionieri subacquei appunto tra i Campi Flegrei e la Sicilia dopodiché è stata anche inaugurata la mostra appunto alla presenza di Paolo Giulierini del nuovo appunto direttore del Museo Archeologico dei Campi Flegrei, appunto proprio Fabio Pagano e alla presenza di tante istituzioni. Ascoltiamo le interviste correlate. Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, allora qui questa mostra davvero bellissima che è una mostra iniziale che poi proseguirà anche comunque più in là al Mann. Sì, è una finestra dedicata all'archeologia subacquea che è da intendersi sia come esposizione di valorizzazione del castello di Baia sia come preview di quella che sarà poi la grande mostra dedicata all'archeologia del mare, e talas che avrà inizio al Mann a dicembre e poi si trasferirà in Sicilia a partire di aprile. Ecco direttore, lei ha chiuso da poco l'incarico qui al Museo Archeologico dei Campi Flegrei, è stata una bella esperienza per lei, tanti dati positivi, quindi lascia un ottimo testimone a Pagano. Sì, sono contentissimo che mi segua Fabio Pagano, persona che stimo moltissimo, che conosco da tanto tempo e che sicuramente in continuità con il lavoro già iniziato potrà portare alla massima espressione l'aspetto della valorizzazione di questo parco archeologico che ha veramente caratteristiche straordinarie sotto il profilo naturalistico e anche sotto il profilo dell'archeologia subacquea. L'agurio di Paolo Giulielini al Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Che possa diventare un sistema attrattivo a livello internazionale, che possa generare soprattutto nei cittadini orgoglio, esercizio privato alla tutela e soprattutto tanto lavoro per i giovani.